dunque vediamo un altro tipo di transistore effetto di campo che è quello che si chiama MOSFET vedrete molto simile all'altro dal punto di vista del meccanismo e funzionamento quella che cambia principalmente la struttura nell'acronimo questo MOS sta per Metal Oxide Semiconductor questa struttura metallo-ossido-semiconduttore è la struttura fondamentale per il funzionamento del transistore effetto di campo nel JFET avevamo la giunzione e stavolta abbiamo questa struttura metallo-ossido-semiconduttore come vi avevo detto quando vi ho fatto quella carrellata iniziale sul funzionamento dei sui transistori sull'elettronica in realtà questo in MOSFET è il tipo di dispositivo più utilizzato comune brevetto degli anni 60 e dunque me lo disegno in sezione questa è una sezione di una fetta di silicio in pratica immaginando di avere una regione tipo P ci sono due pozzetti N+, fortemente drogati uno che corrisponde al contatto di source e un altro che corrisponde al contatto di drain tra i due c'è una regione libera dove si formerà il canale e dove abbiamo la struttura metallo-osseo-semiconduttore che è fatto in questo modo il semiconduttore è questo in questo è il silicio si deposita sopra il silicio uno strato di ossido un materiale di elettrico diciamo tradizionalmente era proprio ossido di silicio e ora non più insomma e sopra si depone un contatto metallico e c'è l'elettroviate quindi questa struttura metallo-ossido-semiconduttore fa riferimento a questo panino ecco questo in particolare è un mosfet a canale N che si dice anche N mosfet quindi mosfet a canale N vedete la regione intermedia tra il drain source è di tipo P però il mosfet sarà canale N perché bisogna cambiare la natura del drogaggio all'interfaccia con l'ossido dunque com'è che funziona il mosfet vediamo proviamo a farlo sullo stesso disegno dovrebbe funzionare allora per vedere com'è che funziona immaginiamo di fare questa operazione applichiamo mettiamo il source a massa al drain applichiamo una tensione VdS e poi applichiamo anche al gate una tensione Vgs allora le due tensioni sono tutte e due positive in generale nel mosfet a canale N il source è l'elettrodo a tensione più bassa gate e drain sono a tensione più elevate allora cose da notare se Vgs è nullo la corrente di drain è nulla la corrente drain è questa corrente qua che passa dal drain e chiaramente può andare dal drain verso il source perché la corrente è nulla? perché vedete che cosa c'è tra il drain e il source? tra il drain e il source c'è una regione P quindi in pratica è come se avessimo due giunzioni Pn contrapposte tra il canale e il drain e tra il canale e il source e quindi ciascuna delle due giunzioni blocca la corrente in una direzione quindi non passa né l'una né l'altra quindi se la situazione è quella che ho descritto qui c'è una regione P nel mezzo tra due regioni N+, la corrente non passa nel bipolare passa perché la regione è molto stretta qui la regione è un po' più laica praticamente non passa va bene? quindi la corrente è nulla cosa bisogna fare per far passare la corrente? visto dal punto di vista della carica che è un po' più facile da vederlo bisogna aumentare la tensione sul gate perché se aumento la tensione sul gate vedete questa struttura a metallo isolante semiconduttore praticamente è un condensatore no, condensatore a facce piane parallele metallo, un ossido, un isolante nel mezzo e poi un altro materiale che conduce sotto se applico una tensione positiva sul gate attiro elettroni verso il gate questi elettroni si fermano all'interfaccia con l'ossido e si accumulano qui all'interfaccia quindi mi trovo qui elettroni accumulati all'interfaccia quindi man mano che aumento la tensione di gate aumenta la concentrazione di elettroni che si accumulano e a un certo punto la concentrazione di elettroni che si accumulano diventa sufficiente ad avere un canale capace di condurre la corrente dal drain al source quindi ho una zona N diciamo quando accumula elettroni a un certo punto la zona di silicio all'interfaccia con l'ossido cambia natura da S di tipo P diventa tipo N cioè piena di elettroni liberi e quindi a questo punto può passare la corrente qua in superficie all'interfaccia tra il silicio e l'ossido ok così questo processo non è un processo che avviene istantaneamente è un processo che avviene in modo molto graduale più aumento la tensione su gate più il canale si riempie di elettroni nella pratica un po' per comodità si approssima con un processo a soglia cioè si dice vabbè fino a una certa tensione praticamente il canale è come se non ci fosse posso trascurare la presenza del canale quando raggiungo una tensione la popolazione di elettroni nel canale è sufficientemente alto che dico che c'è il canale quindi invece di di assumere che l'andamento sia molto graduale di formazione del canale si fa un'ipotesi un po' più forte si introduce una tensione di soglia quindi si introduce una tensione di soglia che si chiama VT e VTH una tensione di soglia si chiama TH perché in inglese soglia si dice threshold ovviamente coTH e si fa questa approssimazione se VGS è minore della tensione di soglia il canale non si è formato e quindi la corrente è nulla se VGS è maggiore della tensione di soglia il canale si è formato è formato e quindi passa corrente ora poi vediamo con che legge ok? però ripeto è una approssimazione di questo comportamento a soglia diciamo che la soglia del del MOSFET è analoga alla a quella VB-ON del transistorio bipolare che abbiamo visto l'altra volta insieme cioè in realtà l'andamento è esponenziale però si approssima come un comportamento a soglia sotto 06 volte la quarentena non passa sopra passa è lo stesso tipo di approssimazione allora che cosa comporta e poi com'è che funziona se io disegno le caratteristiche di uscita quindi id in funzione di VDS al variare di VG quindi questo è id in funzione di VGS utilizzando VG come parametro come che cosa succede beh se VG è minore di VT la corrente è nulla quindi se VG è minore di VT sono in questa situazione questa curva corrisponde a VG minore di VT canale non c'è cioè non c'è carica mobile nel canale corrente nulla se la tensione di gate sale rispetto a VT si popola il canale quindi ho la possibilità di avere la conduzione tra drain e source e praticamente il canale si comporta come una resistenza che è tanto più bassa quanto i più elettronici sono ok quindi per un certo valore di VG si comporta come una resistenza se aumento VG aumenta la concentrazione di elettroni all'interfaccia e quindi aumenta la pendenza e la conduttanza del canale quindi questo è quello che succede all'aumentare di VGS quindi vedete la stessa cosa che avveniva nel caso del J-FET ok la corrente dipende linealmente da VDS per VDS piccoli e la pendenza è tanto più alta quanto più grande è VG perché tanto più grande quanto più grande è VG tanto più alta è la concentrazione di elettroni mobili ok ora a questo punto vediamo che succede come abbiamo fatto prima quando aumentiamo VDS allora quello che succede quando aumentiamo VDS è molto simile a quello che abbiamo visto per il J-FET disegniamo di nuovo il dispositivo che succede a quello che succede Dunque, vedete cos'è che succede, Vgd di nuovo è Vgs meno Vds, quindi se Vds è maggiore di 0, allora Vgd sarà più piccolo di Vgs. Cosa vuol dire? Che il canale sarà più ricco di elettroni al source che al drain, per cui il canale in realtà lo faccio un pochino così per farvi capire che è più ricco, cioè è più ricco di elettroni qua vicino al source perché la Vgs è più alta e è più povero di elettroni vicino al drain perché la Vgd è più bassa. E' la stessa cosa che succede per Vgf, vedete quindi all'aumentare della tensione di drain, quello che succede è che il canale si restringe, che la concentrazione di elettroni diminuisce vicino al drain. Dico canale si restringe perché è la stessa cosa che dico per Vgf, qui più propriamente la concentrazione di elettroni diminuisce vicino al drain. Quindi che cosa succede? Da un lato aumentando la tensione di drain aumenta la corrente, però poiché il canale è meno ricco di elettroni vicino al drain aumenta la resistenza del canale e quindi la corrente aumenta meno di quello che sarebbe aumentata se il canale fosse rimasto lo stesso. Quindi di fatto il restringimento causa lo stesso effetto che abbiamo visto con i GFIT. All'aumentare della tensione sul drain, se il canale fosse rimasto identico avrei avuto un aumento lineare della corrente. In realtà il canale ha una resistenza che aumenta perché si spopola un po' vicino al drain e quindi le caratteristiche piegano verso il basso. Non riescono a mantenere questo tasso di crescita costante. Va bene? Ok. Ora immaginate dove voglio arrivare. Se aumenta così tanto VGD, che aumenta così tanto VDS, che VGD diventa uguale alla tensione di soglia, allora nell'approssimazione che abbiamo fatto noi il canale è sparito al drain. Abbiamo la cosa analoga al pinch off del canale che osservavamo per i GFIT al drain, stavolta nel MOSFET. Quindi, ripeto, se VGD è uguale a VT, il canale si annulla... la concentrazione di elettroni si annulla in modo approssimato, metto tra parentesi, vicino al drain. Allora, VGD uguale a VT, che cosa vuol dire? VGD uguale a VT, ma VGD è uguale a VGS meno VDS, quindi questo vuol dire, in questo effetto si ha quando VDS è uguale a VGS meno VT. Vedete, praticamente è la stessa espressione VTH, l'abbiamo chiamata, non VT. VT abbiamo chiamato la tensione termica, VTH è la tensione di soglia. Vedete, quindi questa è la stessa espressione che abbiamo scritto per i GFIT, soltanto che invece della tensione di soglia avevamo usato la tensione di pinch off. Va bene. In quel punto abbiamo esattamente la stessa cosa che abbiamo a GFIT, cioè il canale è sparito. Ripeto, è un'approssimazione, in questo caso vi avevo anticipato. È chiaro che c'è un andamento graduale che ne trattiamo approssimativamente come un andamento a soglia. Ecco, il punto è che cosa succede se aumento ancora la tensione sul drain? Allora, facciamo il disegno che abbiamo fatto per i GFIT, la solita animazione. Aumentiamo la VDS in questa direzione, facciamo tre punti. Un po' stilizzata la cosa, la facciamo. Immaginiamo che in questo primo punto VDS sia uguale a VGS meno VT. Quindi in questo punto noi abbiamo il pinch off al drain. Chiamiamo X il punto dove c'è il pinch off. In X vale esattamente che VG meno VX è uguale a VT. Quindi X è il punto in cui la differenza di tensione rispetto al gate è esattamente pari al valore dei somma. Se aumentiamo rispetto a questo punto, VDS, che cosa succede? E chiaramente se qui, in questo punto, la tensione è minima. In questo punto la tensione è maggiore di VGS meno VT, vuol dire che il punto in cui sarà uguale a VGS meno VT sarà un punto intermedio. Quindi X si sposta verso il source. Il canale, immaginate che questa sia una specie alla concentrazione di elettroni, diventa zero in questo punto. Se aumenta ancora il punto in cui diventa zero, chiaramente si sposta e la tensione cambia con continuità da qui, da zero fino a VDS. E VXS, che è un punto più piccolo di VDS, sarà raggiunto in un punto intermedio tra i due. Quindi, di nuovo, VXS, questa qui è uguale a VGS meno VT, quindi questa tensione qua, VXS è VGS meno VT, questa tensione qua, VDX è uguale a VDS meno VXS. Se passa, poiché tra DX praticamente non ci sono, insomma, la concentrazione di elettroni è molto piccola, questa regione ha un'alta resistività, per cui basta una distanza molto piccola per sostenere la tensione VDX, anche se aumenta molto la tensione sul drain. Va bene? Ricordate, la resistenza è proporzionale alla resistività e alla lunghezza. Se la resistività è alta per ottenere una resistenza grande, mi basta una lunghezza piccola, ed è quello che succede. Quindi, la situazione è più o meno quella che abbiamo visto per il GF, cioè, all'aumentare della tensione di drain, il punto di pinch off praticamente non si sposta, per cui abbiamo che nel canale la tensione applicata tra X e S è costante e non dipende da VD. La resistenza del canale è praticamente costante perché il canale non è cambiato e quindi la corrente nel canale rimane costante. Ok? Quindi la corrente nel canale rimane costante, la caduta di tensione in più dovuta al fatto che aumenta la tensione sul drain viene tutta sostenuta da questo piccolo pezzettino tra ID e X. Cosa succede sulle caratteristiche? Sulle caratteristiche succede che la corrente satura. Quindi avremo in questo caso questa curva blu che corrisponde al punto di inizio della saturazione, quindi questa punta qui corrisponde al fatto che VDS sia uguale a VGS meno VT queste caratteristiche sono fatte per VGS crescenti, quindi VDS cresce con VGS e poi per pensioni VGS più grande la corrente non sale più e chiamo questa zona saturazione chiaramente come abbiamo fatto per il GF si chiama regione lineare o ohmica ohmica come ohm, quindi OHM la regione per VDS minore di VGS meno VT anche se non è esattamente lineare lineare solo per il primo tratto poi va a saturare e chiaramente questa zona qui dove la corrente è nulla ID uguale 0 è quella che si chiama interdizione vedete la situazione è praticamente uguale a quella che abbiamo visto per il per il GFET quindi anche in questo caso dovremmo andare a distinguere le tre regioni e vedere l'espressione della curva approssimata nelle tre regioni a questo punto lo facciamo la prossima volta grazie a tutti grazie a tutti